ben trovati ad una nuova puntata d'incontro con nel salottino culturale di tele belluno quest'oggi ospitiamo flavio bisonna che è autore del volume le tue valigie sono dalla vicina edito da robin edizione che presenta i luoghi del delitto ben trovato flavio grazie eccomi qua molto contento qui quindi negli studi di tele belluno presentiamo appunto questo questo volume che è il suo primo romanzo lei ha già realizzato degli altri racconti ha già lavorato appunto nell'ambito della letteratura ma anche del giornalismo collaborando con in cazzettino e adesso ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura con questo romanzo che è ambientato proprio a belluno allora noi cominciamo col raccontare col condividere con i nostri telespettatori all'ascolto quelle che sono un po le caratteristiche di questo volume che lei ha proprio ambientato qui anche se lei mi ha raccontato appunto originario di cittadella ma vive a castelfranco quindi un occhio diciamo esterno sul sulla nostra provincia sì perché belluno ha un fascino particolare secondo me che belluno è una nazione mi sembra una damigella scontrosa una damigella che non accetterebbe mai un passaggio da uno sconosciuto e che casomai concede un saluto dopo lungo tempo quando ha capito che la persona con la quale si sta intrattenendo è una persona seria belluno perché ripeto la provincia secondo me è importante in italia anche perché detiene quella cosa bellissima che il dialetto che noi stiamo perdendo perché tutti i bambini il dialetto non so lo stanno perdendo qualcosa che si perde eccetera ma belluno perché a belluno ha lavorato come comandante della nucleo di polizia tributaria un mio carissimo amico che è un veramente un coronelo della guardia di finanza e quindi lei ha deciso appunto basandosi anche su questi racconti su queste testimonianze che le sono state date di così romanzare un po questo questo a quest'opera ecco allora cominciamo flavio proprio col presentare così che cosa racconta le tue valigie sono dalla vicina allora diciamo che il personaggio che il colonnello giorgio cavasin che è un veneto in mezzo a un sacco di meridionali per cui c'è è un po l'opposto della realtà di solito no racconta la vicissitudine di questo colonnello il quale ha un rapporto con la moglie da lunga data e ha una passione segreta che la moto la moto guzzi v7 che è la moto di ordinanza da guardia di finanza e lui a questa smodata passione per questa moto girando per le campagne della puglia la trova e accende alla moglie che vorrebbe portarsela a casa ma la moglie gli dice assolutamente non se ne parla un no categorico un no categorico un no categorico e invece lui cosa fa trova le complicità eccetera qui a belluno la porta a belluno la rimette a posto e quando finalmente il primo giorno sale sulla moto e va realizza il suo sogno viene coinvolto in un incidente su verso tiago verso il castello di zumelle è un incidente che lo coinvolgerà in una serie di avventure che poi magari possiamo eventualmente dire che sconvolgeranno la sua vita quindi sono due piani c'è il piano personale suo nel rapporto con la moglie quale gliela farà pagare cara questa sua passione e il fatto che lui sta va a indagare su un grosso un grosso problema di riciclo di rifiuti di rifiuti quindi anche una tematica diciamo attuale no su cui comunque bisogna ragionare su cui bisogna riflettere quindi diciamo sì un romanzo ma un romanzo che trasmette dei messaggi sicuramente è noto dalla stampa che l'assessore all'ambiente regionale è stato minacciato di morte perché dice vuole fare la guerra alle eco mafie è un tema secondo me molto molto vivo e sentito assolutamente sì è un modo comunque anche lei racconta nelle nelle pagine del libro descrive anche la ricchezza però del territorio bellunese dando anche qualche riferimento di alcuni scorci tipici no beh allora io sono come si dice ad ripeto affascinato da questa donzella che è belluno la quale tra l'altro ha il dono di avere dolomiti tra le sue tra le sue peculiarità dopo è per esempio belluno è adagiata sul sul piave che ha un movimento molto ondulato questi paesetti sulle colline che è gradevole piacevole poi belluno è fatta di gente pacifica di gente che insomma non è che assistiamo non c'è un ambiente difficile per vivere per uno si può vivere bene perché esattamente la metà strada tra la grande città e il paese quindi e poi belluno ha secondo me purtroppo è stata testimone della prima guerra mondiale di tigre è una testimonianza per noi italiani che in questo momento qua forse abbiamo un po perso il senso dell'unità d'italia qui sono venuti a combattere tutti insomma certo e quindi si eredita appunto si si ricorda diciamo anche questi questi tragici fatti le donne in questo romanzo hanno un ruolo essenziale allora io dirò una cosa che mi attirerò tutte le ire delle donne ma d'altronde sono cose che penso e non possono tacere io credo che il maschio oggi sia disorientato il maschio oggi fa fatica a capirsi il nostro personaggio il colonnello cavasi ha a che fare con quattro donne che sono la moglie che sono elvira che sarà la signora anziana burbera saggia che lo accoglierà in casa una una chiamiamola badante una donna di servizio rumena piena di fascino e poi la quarta donna è la guzzi che lo porterà alla perdizione ma dicevo che secondo me oggi come oggi l'uomo l'uomo si trova squinternato perché allevato da mamme che lo hanno tenuto nella bambaggia fino a una certa età in cui era il maschio adesso si trova in un ruolo minoritario le donne hanno la capacità di fare benissimo quello che fa lui hanno la libertà vanno dove vogliono e quindi l'uomo fa fatica a trovare un suo ruolo quindi il mio personaggio è anche come dire una figura un'immagine uno spettro su quello che è la difficoltà del maschio di oggi di trovare una sua collocazione nella realtà attuale certo e quali quali possono essere così le sue caratteristiche per rappresentarlo allora giorgio cavasi è un uomo di una cinquantina d'anni circa che vorrebbe vivere in pace il suo sogno sarebbe di lavorare divertendosi ed è un'utopia se si chiama lavoro non è un divertimento però c'è sempre un mezzo compromesso tra ciò che si vorrebbe e ciò che si riesce ad avere ecco lui ha questo sogno qua in realtà poi tutte le cose che succedono sono tutti incidenti di percorso che continuano a minargli questa sua ricerca della felicità più che della felicità della serenità ecco è un uomo che vorrebbe vivere sereno e invece continuamente ricapita qualcosa che li impedissi di essere sereno nel contempo lui è autoritario con i suoi con la sua si chiama squadra terrona perché sono due sardi e un pugliese e poi c'è un siciliano che è un lavativo ma non c'entra niente non è che sia mi spiego non è significativo è il personaggio che è così lui è autoritario ma anche molto paterno nel senso che li capisce li aiuta non li lascia mai soli diciamo che teoricamente è un uomo ideale però con tanti difetti perché lui difetti ne ha un sacco e infatti lo confesserà che è limitato e ha dei difetti e delle passioni e non ha saputo resistere anche al richiamo della Guzzi non ha saputo resistere ben sapendo certo cosa sarebbe accaduto e invece con la moglie qual è questo rapporto con la Paola? con la Paola allora è sempre il problema delle coppie sposate il problema delle coppie sposate è che purtroppo c'è la quotidianità che uccide la quotidianità mette un po' di cenere sopra le braci che se non le vado ad alimentare con qualcosa un po' alla volta e poi alla volta si spengono Paola è una donna metodica perché a lunedì si mangia la pasta asciutta al martedì si mangiano gli gnocchi al mercoledì si mangia la carne eccetera però è efficiente, è brava, è dedicata non è riuscita ad avere figli cosa che le procura un grande dispiacere e lui si è adagiato a questo rapporto sta bene perché fa parte del suo concetto di serenità quello che lui scoprirà è che invece la moglie è convinta che lui abbia un sacco di amanti soprattutto un amante e lui si troverà disarmato a dirle ma cosa stai pensando, cosa stai dicendo gli verrà chiesto di giustificare, poi gli avverranno gli avvocati eccetera di giustificare questa sua fedeltà come devo giustificare la mia fedeltà? casomai dovrei giustificare l'infedeltà certo, quindi vediamo che all'interno del libro si intrecciano tutta una serie di episodi di racconti ma anche di sentimenti che emergono nello stesso tempo e che riescono in qualche modo a far provare l'autore delle vicissitudini altamente differenti quindi una parte importante è anche i sentimenti poi c'è il problema invece delle indagini che lui conduce quello che io scrivo in questo romanzo naturalmente è tutto vero non ho divulgato nessun segreto perché sono cose che sono apparse nella stampa quindi io non ho fatto altro che prendere qualcosa che è successo perché in effetti verrà fuori che purtroppo c'è del marcio c'è del marcio e anche i potenti sono potenti dappertutto sia che sia Belluno sia che sia New York certo, quindi quello lo si ritrova chi è il target a cui lei si rivolge? allora, molto cinicamente io so che in Italia sono le donne che leggono perché gli uomini non leggono una volta esaurita la stampa sportiva magari in particolare gli uomini fanno fatica a leggere perché sono meno pazienti quindi il target del lettore per me è una donna che vorrebbe un po' capire con chi ha a che fare e poi con i bellunesi se fosse possibile che vedrebbero un terzo che viene qua a scrivere qualcosa su di loro dicendo ma chi ti ha autorizzato a parlare così male di noi? certo, questo è molto importante anche perché talvolta noi siamo talmente immersi all'interno della nostra realtà che non ci accorgiamo di quello che magari può accadere quello che succede realmente mentre arriva una figura esterna che sotto forma ovviamente di romanzo quindi anche con questi aspetti curiosi che accadono proprio al protagonista mi viene in mente nella prima parte proprio del libro dell'incontro con l'Elvira e con questa sua preoccupazione di essere un po' sbeffeggiato anche nei confronti degli altri condomini ecco, Elvira è un personaggio per me che l'ho creato, eccetera che è la somma di due o tre donne anziane che io ho conosciuto molto da vicino per me è un personaggio molto bello simpatico, diretta, rozza non rozza, diciamo non è una che addolcisce le cose anzi se può lo sminuisce ed è utilissimo perché ogni tanto Cavazin ha dei momenti di debolezza delle volte anche dei momenti autoesaltazione lei cosa fa? gli taglia i momenti di autoesaltazione e lo tira su quando ha dei momenti di debolezza soprattutto lo cura con la cucina una delle espressioni che dirà Elvira sarà sono felice che finalmente un maschio mi chieda di stirargli le sue camicie cosa che nella mia vita non ho mai avuto il piacere di fare insomma quindi lo tratta un po' come un figlio come un nipote ma al quale tira le orecchie se le fa le cose certo un personaggio essenziale un personaggio importante tant'è vero che viene richiamato anche nel titolo di quest'opera che è un titolo particolare ecco le tue valigie sono dalla vicina è un titolo che tra l'altro mi ha suggerito il mio carissimo amico al quale ho dedicato anche a lui il libro è quel fogliettino quel post-it che il colonnello dopo che ha avuto la vicissitudine di essere stato coinvolto nell'incidente nel primo giorno in cui mette in strada la sua bellissima Guzzi torna a casa tardi e tornando a casa tardi trova sulla porta di casa un post-it con scritto ti avevo detto di non comprarti la moto punto a capo non cercarmi punto sotto le tue valigie sono dalla vicina punto vicina che lui odia cordialmente perché è una vecchia che impicciona eccetera e invece poi si trasformerà in un personaggio simpatico che l'aiuterà perché poi dalla dalla vicina questa Elvira lavora questa terza donna che è Lilli che è una rumena di una classe che è venuta laureata nel suo paese d'origine che è venuta qua a fare la donna delle pulizie che però ha un distacco ha una signorilità una plomb che lo affascinerà e vedremo che poi ci saranno quindi vediamo tanti temi della società attuale richiamati all'interno del libro cioè abbiamo la tematica del malaffare della malavita diciamo di questa preoccupazione che intacca anche le province tutto sommato piccole abbiamo i sentimenti abbiamo anche la figura del mondo del lavoro con questa immigrazione immigrazione che c'è quindi tanti riferimenti a quelli che sono proprio la società attuale guardi io sono convinto ma lo so convinto da sempre che si raccontano più verità con le storie che con i teoremi se posso citare ma mi vergogno a citare ma lo cito Gesù di Nazareth ha detto parlava per parabole perché con la parabola con il racconto chi lo legge lo può interpretare come vuole un teorema A uguale a B quindi B uguale a A tu non hai possibilità di avere fantasie o di crearti chissà quale immaginazione quello è e quello resta certo e quindi si riesce ad arrivare subito al cuore di quello che si vuole dire questo libro lei Flavio lo presenterà anche qui a Belluno a breve esatto sabato 14 settembre alla libreria Le Due Gitelle che ho scelto perché una libreria che si chiama Le Due Gitelle per me ha tutta l'ammirazione perché ci vuole se ci vuole ci lo presenterò qui alle 6 di sera io spero che sia un avvenimento simpatico in cui ci divertiamo in cui ci divertiamo magari spererei che venisse più di qualche signora con la quale iniziare magari qualche colloquio perché sono stato accusato di essere masochista misogino non è vero che sono misogino io dico che le donne sono donne e gli uomini sono uomini e ognuno deve fare la sua parte non mischiamoci per carità questa contrapposizione quindi ricordiamo anche per gli ascoltatori in questo momento che ci stanno seguendo la presentazione del volume Le Tue Valigie sono dalla vicina si terrà proprio sabato 14 settembre alle ore 18 alla libreria Le Due Zitelle in piazza Piloni 9 dove appunto il signor Abisson avrà poi anche il piacere di autografare il volume per chi desidera acquistarlo ecco ricordiamo che è un volume che si trova comunque in tutte le librerie d'Italia edito ripetiamo da Robin Edizioni che è fa parte dei Feltrinelli quindi di una nota casa editrice un'ultima curiosità Flavio questo sarà l'ultimo volume o ci sarà un proseguo delle vicissitudini del colonnello lei lo sa qual è la maledizione che quando uno scrive un libro poi si insiste invece io ho avuto una raccomandazione da parte del mio auditore che ha letto il libro l'ha stampato gli è piaciuto ha detto no questo personaggio di Giorgio Cavasin richiede ulteriori storie perché è un personaggio a tutto tondo che ha tanti sviluppi psicologici umani per cui è meglio che lo teniamo in vita quindi sto scrivendo la seconda parte il proseguo e chissà se ci sarà ancora anche la sua la sua amata quarta donna oppure se saluterà fuori qualche altra sorpresa è purtroppo vedremo 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 io ringrazio tanto Flavio Bissonna per essere stato qui con noi negli studi di Telebelluno ovviamente buon lavoro Flavio lei e le sue attività grazie molto gentile grazie e a tutti quanti voi una buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti